ciao ragazzi un saluto a tutto il gruppo gruppo di caravan autonome libera oggi ci troviamo a gaeta in un'area parcheggio pubblica a pagamento un'area riservata ai camper alle caravan ma anche autobus e auto allora vi faccio vedere un po la panoramica poi vi spiego qui addirittura mi hanno detto che si può sganciare detto se vuoi in poche parole si paga un biglietto di 24 ore 15 euro per i camper e per le caravan autonome ovviamente perché è un parcheggio senza servizi però è illuminato ci sono i cestini ci sono le panchine e siamo proprio attaccati al centro e alla spiaggia di gaeta adesso vi faccio vedere sulla cartina qui c'è la casetta dove c'è la cassa questa è l'entrata quindi appena si entra si può pagare prima una volta sistemati altrimenti quando vanno via loro c'è il pagamento con easy park ci sono tutte le tariffe descritte nei cartelli come questo con tutte le regole da rispettare i piedi eccetera allora è un parcheggio ampio adesso vi faccio vedere noi siamo qui siamo messi in questa fila poi ci sono altri canter giù e vi faccio vedere la zona allora noi ci troviamo qui qui c'è a pochi metri vedete la spiaggia famosa di gaeta serapo e subito ci troviamo nel centro vedete tutto attorno c'è il centro di gaeta con il porto e tutte le zone turistiche da vedere noi ci siamo stati quest'estate non in questo parcheggio ma in un'area di sosta qui vicino abbiamo fatto un raduno e niente avevo visto questo parcheggio oggi siamo uno di qui in occasione delle luminarie e niente vi volevo far vedere quest'area di sosta la posizione così potete usufruirne anche voi la zona e spaltoni area spaltoni area camper area sosta camper vedete arrivano camper in continuazione anche in questo momento tutto in diretta ragazzi mi piace fare video così senza filtri e senza ritagli ecco in diretta come viene questa è la roulotte ho tirato giù il piedino visto che addirittura qui ti consentono di sganciare ma io preferisco di no stando da soli non conosciamo nessuno anche se qui è pieno di camper però non conosciamo altri equipaggi e non ci possiamo organizzare diversamente allora però volevo far vedere una breve panoramica ci sono varie file di camper ci sono diversi bambini mi fa piacere questa cosa famiglie con i bambini che girano come noi e niente quindi poi più tardi andremo alle luminarie e mangeremo qui stasera dormiremo qui e poi domani mattina con calma dopo colazione si riparte vedete faccio vedere acquidenza e faccio tutto il giro fare una passeggiatina come ci sono i cestini per la zona illuminata quindi siamo su questi pietre di cemento quindi l'acqua quando c'è quando piove filtra proprio come nelle aree di sosta private anche ci si parcheggia in questi mattoni dove se piove tanto l'acqua va giù non succede niente ecco qua questa questa è un'altra questi sono appena arrivati e adesso troveranno il posto e niente ci sono alcune i camper vintage anche ho visto un'arca prima eccolo per dietro un'arca america e niente e vi ricordo di iscrivervi al canale di lasciare un bel like e condividete che se voi volete informazioni su su quest'area e su dove altri consigli informazioni a disposizione ok ragazzi un saluto a tutti e al prossimo video ciao